Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo dinanzi alle due chiese la chiesa antica di Santa Maria delle Grazie e la chiesa grande ecco quella consacrata nel 59 oggi qui per raccontarvi quello che è la storia di un uomo la storia che ha raccontato a sua volta Maria Vinvosca in un suo libro lei è stata testimone oculare diretta che qui sul piazzale di Santa Maria delle Grazie piazzale della chiesa della chiesetta antica perché parliamo solo della chiesetta antica avvertì e vide un campanello di persone proprio così racconta che stavano ascoltando un uomo che raccontava qualcosa molto animatamente l'uomo diceva che non era mai stato in chiesa addirittura elencava il numero degli anni 35 ed era convinto da una figlia spirituale a venire qui a San Giovanni Rotondo e così fece e da quando era venuto lui la notte non pote neanche dormire perché pensava sempre ai suoi peccati ma lui racconta le avevo visti così chiaramente era come una sfilata di peccati un elenco fu svegliato alle due di notte insieme ad altri si avviò pure lui alla chiesetta per la santa messa dopo la messa andò da padre pio a confessarsi appena inginocchiato sentì la testa svuotarsi gli era impossibile ricordare tutti i suoi peccati da dove cominciare padre pio intanto aspettava poi con molta dolcezza gli disse coraggio figlio mio non mi hai detto tutto durante la celebrazione eucaristica durante la messa so via mi ha detto tutti i miei peccati mi capite diceva quest'uomo allarmato a tutti mi ha detto tutti i miei peccati me li ha elencati tutti lui capite quelli che nessuno conosceva quelli che io stesso avevo dimenticato non dovevo fare altro che dire sì padre ho commesso questo peccato e dopo racconta ancora quest'uomo così che raccontava tutti in modo animato mi ha dato la soluzione ora mi sento leggero molto leggero mi sento leggero come un bambino grazie a tutti grazie a tutti